Nella propria vita ognuno di noi ha dei sogni per trasformarli in realtà bisogna crederci fino in fondo quando da bambino ho scoperto dall'adrenalina che la moto a piena velocità era capace di generare in me ecco da quel momento è cominciato il mio sogno 15 anni di gare sono state come un lungo viaggio tappe a volte difficili rischiose ma talvolta anche straordinariamente speciali oggi sto continuando a sognare inseguendo l'obiettivo di trasformare altrettanti sogni in realtà indosso navigare perché un brand che incarna i miei stessi valori un marchio che riflette il mio stile di vita fatto di lunghi viaggi di appuntamenti quotidiani di riunioni aziendali una collezione di abbigliamento che si sposa perfettamente con le mie esigenze di comfort versatilità piacevole da indossare adatto sia nei momenti di lavoro che durante il mio tempo libero e anche nei momenti del mio relax capi esclusivi per uomini che non smettono mai di sognare e di viaggiare per raggiungere la prossima migliore giudizioni migliore 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 Grazie a tutti